L'investimento è considerato tra quelli strategici per il territorio circa 300 milioni di euro per la tangenziale che dovrà collegare la Gela Catania con la 626 Gela Caltanissetta. Lo scorso gennaio le carte e il progetto definitivo sono stati trasmesse al Ministero dell'Ambiente per l'avvio della valutazione di impatto ambientale, un passaggio cruciale per chiudere l'Itera e andare verso la gara e la giudicazione dei lavori. Per diverso tempo sembrava che il progetto nella lista principale di Anas potesse andare incontro ad un vicolo cieco. La procedura è stata sbloccata ed è attualmente in corso. Di recente i funzionari ministeriali hanno richiesto delle integrazioni ad Anas che riguardano proprio la valutazione di impatto ambientale. È stata avviata una comunicazione tra gli uffici ministeriali che hanno sul tavolo le carte della tangenziale e quelli di Anas. Per evitare che le integrazioni e richieste possano rallentare l'intera procedura, il senatore Grillino Pietro Lorefice, che insieme al sottosegretario delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri sta seguendo l'iter in corso, ha deciso di chiedere un incontro ad Anas. Sarà l'occasione per approfondire le richieste avanzate dal Ministero e soprattutto per sollecitare la stessa Anas a dare riscontri immediati, così da non appesantire un interscambio di atti e documentazione tecnica già piuttosto complesso. Secondo Lorefice bisogna correre e non sono ammissibili ritardi. Il senatore Grillino parla di un progetto molto importante per il territorio che è stato finalmente sbloccato. Proprio per questa ragione non sono ammissibili pause o passaggi a vuoto. Il tracciato in progetto interessa direttamente un sito della Rete Natura 2000, ZPS, Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela. Di conseguenza, come si legge nella documentazione, è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale. Il tracciato interessato agli interventi è lungo 15,80 km e si prevedono 5 svincoli. Quello zona PIP presso la strada provinciale 187, sulla provinciale 8 per Butera, sulla provinciale 81 via Mazzarino e lungo la statale 117 bis. Secondo i sindacati del settore un progetto di questo tipo assorbirebbe una fetta importante della mano d'opera edile locale. E' stato nominato di recente anche un commissario con il compito di monitorare i passaggi dell'intero progetto.